Sì, oggi per me è stata una giornata speciale perché comunque da poco ho lasciato questo campo, ho lasciato questi tifosi, questa società e non nego che oggi mi ha fatto piacere tornare qui, dove ho lasciato tanti amici e sono contento anche della prestazione perché secondo me siamo entrati in campo da squadra dal primo minuto fino all'ultimo, anche nei momenti di difficoltà siamo stati uniti, compatti e penso che questa sia la chiave per affrontare al meglio il campionato. Sì, 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 noi il mister durante la settimana ci chiede proprio questo, di provare sempre di più a essere squadra nei momenti soprattutto difficili perché comunque nei momenti facili vengono meglio tutte le cose e credo che oggi comunque nonostante siamo all'inizio, comunque magari la condizione non è proprio al 100%, è importante fare gruppo in campo, essere squadra, aiutarsi l'un con l'altro e penso che oggi sia visto. Guarda, ne parlavamo anche nel riscaldamento, cioè vedere la gente sugli spalti a noi ci ha fatto un bel effetto perché a noi ci mancava, anche se comunque erano in pochi, comunque ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo e noi li ringraziamo e speriamo di toglierci delle soddisfazioni tutti insieme perché è quello che vogliamo fare. Il Mondena è comunque a buon punto perché comunque dall'inizio oggi passando da tutti gli allenamenti amichevoli abbiamo fatto dei miglioramenti che sicuramente durante la settimana continueremo a fare, cercheremo di limitare il più possibile gli errori e lavoreremo sempre come stiamo facendo per arrivare al meglio alla prima di campionato che sicuramente saremo pronti. Grazie per la visione! Grazie!